E' sbarcata al porto di Salerno la prima delle quattro TBM Tunnel Boring Machine destinata allo scavo delle gallerie previste sul tracciato dell'8.1 Battipaia Romagnano dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. La maxitalpa del peso di 4 tonnellate lunga 130 metri e dotata di 18 motori che generano una potenza di 10 megawatt rappresenta un passo importante per la realizzazione del progetto. e dopo il trasferimento presso l'area di cantiere e il montaggio che necessita di circa due o tre mesi potrà essere operativa per iniziare gli scavi decisivi per la creazione del nuovo tracciato. Il macchinario avrà il compito di perforare per circa 3 chilometri i suoli compresi tra campagna e contursi terme per il completamento della galleria Saginara e opererà H24 7 giorni su 7 con l'impiego di oltre 100 operai specializzati. Nei prossimi mesi inoltre arriveranno altre tre TBM così da entrare nel vivo del maxiprogetto. La talpa appena sbarcata a Salerno è la più grande utilizzata in Italia ed Europa da WeBuild, gruppo leader mondiale dello scavo in sotterraneo, ed è stata accolta con soddisfazione anche dai rappresentanti del governo Meloni. I lavori dell'8-1A dell'alta velocità prevedono la realizzazione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano e la costruzione di 20 gallerie di cui 8 da scavare con le TBM e 19 viadotti e poi la realizzazione a Romagnano di un bivio per l'interconnessione con la linea esistente che collega Battipaglia a metà punto e potenza. Un progetto strategico e di grande impatto che unirà Nord e Sud Italia e promuoverà la mobilità sostenibile del paese.